Ciao a tutti ragazzi, scusate se in primi secondi non ho parlato perché pensavo che il video ho scacciato un tasto che manco conoscevo, allora come vedete qui sopra sono 727 trofei, l'ho vinta adesso a battaglia e andiamo a fare quest'altra battaglia, questo deck è molto forte, ho perso la voce perché oggi ho guardato tantissimo guardate, mi ha fatto tanto danno quello di prima, partiamo così, è così ma c'è un buono, no, ha fatto bene ha fatto bene ha fatto bene ha metti i sgari ha fatto bene 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 ciao Giovanni morite male, morite male sta Valchiglia la Valchiglia si è morta guarda bello 3 però io ho toccato un po' la torre, qui dopo il Zero da dietro mamma mia a lui e mi tocca anche lui la torre ma io ti odio è malissimo, è malissimo, è malissimo, è malissimo, ma quanto idiota, ma mori prima che è, cattolore, ho fame, come la metti se muori perché, sei felice, sei felice, no, fuck che buorlese, amici, e da me, posso chiedere come un choco realmente, sei trago, un applauso, Un applauso, bravo, bravo, bravissimo, il top, bravissimo, mamma mia, ma quanto sei bravo, bravissimo, bravo, bravo, continua, guardate come esplodete tutti, guardate, tutti da dietro, tutti da dietro. Forza, vai, vieni, vieni, forza, forza, vieni, vieni. Oh, cazzo, vieni, vieni, vai, forza, forza, forza. Ma come siete morti tutti, ma come muoio anch'io. Oddio, che culo, oddio, che culo. Se pareggio c'ho culo, se pareggio c'ho culo. Quanto sei un pirra, potrei buttare le frecce là. Quanto sei un pirra. E si va a pareggiare. A me mea, zitto, zitto, così, zitto. Zitto. Fai da me le figure. Ah, ma la web che un po' si vede, ok. Inza, non si vede. Ancora tutti questi giocanti mi hanno rotto. Lo ignoro, ma mi ha ignoro, mi ha ignoro. Livello 1. Ciao vita. Guarda. Guarda come li faccio loro, vorrei. Mamma mia, il top, il giocatore di Arena 2. Mamma mia, mamma mia. Patrice gherry. Bravissimo, col bombarone, sei proprio il top, guarda. È più forte di Arena 2 quello, guarda. non ci sono qui. Certo non c'è video. Manco un minuto è arrivata questa partita. Mamma mia. Mamma mia la gente che non so giocare. O'MG. Chrudgaram. Chia ragazzi ho fatto queste due partite. Iscriviti sul mio canale Spittataio, mi raccomando mi raccomando iscrivetevi al canale anche sul mio telefono e noi ci vediamo un prossimo video ciao ragazzi